Dolori, febbre e addirittura la morte. Non in tutti i casi sono stati eseguiti gli accertamenti necessari per verificare se i problemi di salute posti in oculazione possano essere considerati effetti collaterali legati al vaccino anti-covid. Fatto sta che stanno aumentando le testimonianze di chi ha accusato in prima persona alcuni sintomi oppure conosce chi li ha avuti. In questa azienda pesaresa alcuni dipendenti ci hanno raccontato anche cosa ne pensano della vaccinazione e del Green Pass che tra circa due settimane sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro. A proposito di effetti collaterali, lei conosce una persona che li ha avuti? Più che effetti collaterali, effetti devastanti perché abbiamo perso un collega che conoscevo da anni con cui collaboravamo, superata da poco la cinquantina, sento come un pesce, dopo due giorni dalla seconda dose ci ha lasciati per cardiopatia congenita. Risulta quantomeno strano che uno che ha superato i cinquanta non abbia mai fatto in vita sua un elettrocardiogramma, una visita cardiologica. Sarà una coincidenza, però questo collega l'abbiamo perso. Come si chiamava? Massimo Cacciatori si chiamava. Aveva patologie pregresse di altro tipo? Era come tutti noi, noi che facciamo questo lavoro siamo sottoposti a check-up rigorosissimi e lui come noi era sano come un pesce. Ora proseguiranno degli accertamenti per verificare un legame con il vaccino? Che io sappia no, perché la causa è stata stabilita con questa cardiopatia congenita e quindi ci abbiamo rimesso un collega per caso due giorni dopo la seconda dose. Lui ha fatto la doppietta eterologa, non ricordo quali fossero i due virgolette virgolette vaccini, però è uno di quelli che ha fatto la prima dose di una casa e la seconda di un'altra. E questo è tutto ciò che ci è dato sapere su questo collega che non abbiamo più. Lei invece si è vaccinato? Io non mi sono vaccinato e io direi due parole sul Green Pass. Il Green Pass per come viene pubblicizzato, perché la parola è giusta, pubblicizzato, dalle autorità, e parlo del Presidente del Consiglio, addirittura del Presidente della Repubblica, secondo me non garantisce alcunché perché io che ho fatto il tampone ieri sono sicuro di essere negativo. L'equazione vaccinati uguale immunizzati, ormai credo sia scontato che è un'equazione che è sbagliata, perché i vaccinati sono contagiabili e contagiosi. Quindi ritrovarsi tra vaccinati col Green Pass in tasca, sì, sarà una bella cosa, però è anche un'ottima occasione per contagiarsi. Chi fa il tampone, quantomeno, ha la certezza che in quel momento non è né contagioso, però contagiabile sicuramente, ma sicuramente non contagioso. Non ho intenzione di vaccinarmi, anche perché il caso di Massimo Cacciatori è uno dei casi, ma abbiamo anche casi di reazioni gravi che non hanno portato alla morte. Li conosciamo tutti, non so chi ci sia che non conosca qualcuno che è stato male a causa del vaccino. Io non voglio rischiare di farmi iniettare sta roba, farò un tampone ogni due giorni, ho la fortuna di lavorare in questa azienda che ci mette a disposizione una farmacia in cui andare a fare il tampone ogni due giorni e quindi tanto di cappello alla mia azienda che ci dà questa possibilità. Avendo questa possibilità io non mi vaccinerò. Anche lei conosce qualcuno che ha avuto problemi dopo il vaccino? Certamente, io conosco due mie amiche che hanno avuto delle reazioni avverse, in particolare si sono svegliate a distanza di qualche ora, avevano una sensazione di caldo e rimanevano praticamente bloccate, praticamente si sono sentite come bloccate, per cui sono andate in processo di soccorso. La cosa si è risolta, diciamo fortunatamente si è risolta, però essendo queste persone perfettamente sane, le conosco molto bene, diciamo che la correlazione con questo ci deve essere assolutamente. e su una conoscenza di qualche centinaia di persone che qualcuno ha è comunque una percentuale abbastanza elevata. Lei invece si è vaccinato? No, io non mi sono vaccinato. Posso chiederle perché? Perché non... Diciamo che... Allora, il vaccino cosa porta? Alla fine di tutto, le persone sono comunque contagiabili, le persone sono comunque contagiose e una persona assume un farmaco quando il beneficio può averne beneficio. Io in questo momento non vedo beneficio, soprattutto non mi proteggo me stesso, non proteggo gli altri e ho seguito anche un attimino, non penso che alla fine, non ho fiducia, non ho fiducia assolutamente in questa cosa. Quindi esegui dei tamponi? Io eseguo dei tamponi perché fortunatamente la mia azienda mi ha dato la possibilità di fare i tamponi e con questi tamponi comunque ho la certezza di non essere contagioso e di non essere stato contagiato. Non vedo fra le altre cose per cui eseguendo i tamponi devo tenere la mascherina quando ho la certezza rispetto a una persona vaccinata e di non essere contagioso. Anche sua sorella ha avuto problemi dopo la somministrazione del vaccino? Sì, mia sorella ha fatto il famoso mix di vaccini, quindi di marche diverse e dopo aver fatto questo vaccino subito sono apparsi dei sintomi molto forti, cioè non riusciva a stare in piedi, vomito, tremore, attacchi di calore immenso, questo per parecchi giorni. Ora a distanza di quasi tre mesi dalla somministrazione lei ancora improvvisamente avverte forti tremori e questi sbalzi di temperatura che non le permettono di stare in piedi, quindi è molto invalidante. I medici non sanno come intervenire e ovviamente non danno correlazione con la somministrazione del vaccino, però premetto che lei è una persona di 44 anni, non ha mai avuto patologie e quindi era sana prima di questa somministrazione, questo è quanto. Anche lei mi diceva che non si è vaccinato, quindi si sottopone al tampone, che cosa ne pensa di queste disposizioni che sono state imposte dal governo? Io penso che sia una cosa totalmente ingiusta perché va a lenire la Costituzione italiana che è basata sul lavoro, sul diritto del lavoro e quindi dopo che una persona paga le tasse e tutte si trova a dover affrontare una spesa che non è indifferente per venire a lavorare, altrimenti deve sottostare a un trattamento di cui non è sicuro, di cui non vuole essere trattato, mi sembra una cosa molto ingiusta. Come è ingiusto ed è molto a livello di persona, di discriminare chiamando le persone, non persone, ma vaccinati e non vaccinati. Come usare la distinzione fra due persone solamente per il colore della pelle, mi sembra una cosa molto ingiusta. Cristian lei invece si è vaccinato, ha avuto dei problemi dopo la somministrazione oppure no? Allora, io mi sono vaccinato dopo la somministrazione specialmente della seconda dose, sono stato molto male per circa tre giorni, ho avuto febbre, diarea, vomito, mal di testa, giramenti di testa specialmente, è anche un forte bruciore nella mano che ancora sta continuando, però non in maniera grave. Che vaccino gli è stato somministrato? Gli è stato somministrato il Pfizer. E poi ha fatto anche la seconda dose? Poi ho fatto anche la seconda dose, infatti alla seconda dose diciamo sono stato molto male. Anche lì? Mi sono trovato molto male, sì. Si è rivolto ai medici per cercare di capire appunto se fosse una situazione correlata al vaccino, quantomeno per curare quanto stava soffrendo. Sì, giustamente ho chiamato il medico di famiglia che in pratica mi ha detto di prendere solo l'attacchipirina, però non è che ha aiutato più di tanto, cioè non è che mi sono sentito proprio, non ho visto nessun tipo di miglioramento. Oggi sta bene? Oggi sto ancora bene, però c'è qualche episodio in cui ho qualche giramento di testa, cioè ancora sento che sta continuando sta cosa e in più sento un bruciore della mano che mi va all'interno, una specie di bruciore interno che continua fino alle punte delle dita. Quando ho fatto la seconda dose? La seconda dose l'ho fatta quasi una settimana fa, che è giovedì scorso. E quindi ancora continua qualche strascico? E ancora continua, sì, ci sono ancora delle problematiche, diciamo, ne risento ancora qualche problematica, sì. Grazie. 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 Grazie.